Miei carissimi milanesi, bentornati a un nuovo appuntamento con miei carissimi milanesi. Ci sono dei milanesi che raccontano questa città in varie forme. Abbiamo avuto chi le raccontava su un palco facendo teatro, chi le ha raccontate scrivendo sui giornali, chi cantando storie che nascono qui, che poi vanno chissà chissà dove, vanno in giro, girano il mondo e poi ritornano qui. Ma insomma, il nostro ospite di oggi è uno di quelli che Milano ce l'ha nel cuore, ma è anche capace di bacchettarla quando serve. Con noi questa sera, Eugenio Finardi. Bentornati a Miei carissimi milanesi e benvenuto a Eugenio Finardi. Ciao a te, benvenuti tutti. Benvenuto al milanese Eugenio Finardi. Assolutamente, io non sono sicuro di essere italiano, americano, ma sono sicuramente un milanese. Anzi, ti dirò di più, un milanese zona fiera, ho vissuto per un certo periodo a Lambrate e mi sentivo in meridione. Salutiamo gli amici di Lambrate che saranno contenti di questa cosa. No, ma è il mio modo di prendere in giro il Treves, il puma di Lambrate. È il puma di Lambrate. Perché c'era una rivalità, quando eravamo ragazzi c'era la Dreaming Bus Blues Band, poi il Pacco, il Corso Sempione Blues che andava dall'Arco della Pace, che abitava in via Vincenzo Monti, i Camerini abitava in via Guerrazzi, davanti a dove adesso ci sono altre radio molto famose, non esclusa la RAI, dicevo. E da lì poi il lungo Corso Sempione, la Statale del Sempione, fino a Rò e a Cormano, dove c'erano tutti i posti dove suonare, i capannoni. E poi c'erano appunto le sezioni ritmiche ruspanti dell'Interland, che invece i fighetta milanesi non erano capaci. Si può dire fighetta? Si, si può dire. I fighetta milanesi non erano capaci di fare. Quindi Eugenio, il ritmo arrivava dalla periferia, quindi? Era quello che dava... No, non necessariamente, però sì, il batterista, non so, del mio primo singolo nel 73, era Ezio Malgrati, un batterista di Rò, che poi ha fatto tutt'altro nella vita, che aveva la caratteristica di avere una gamba più corta dell'altra, la destra, per cui sul pedale della cassa aveva una zeppa di legno, bravissimo. Chissà... E' difficile dire che cosa, perché sono tantissime... Io direi che basta il cantante, perché io sono nato all'interno di uno strumento musicale, che era mia madre, una cantante lirica americana, venuta a Milano, perché per lei il centro del mondo era la Scala, a studiare alla Scala. Ha conosciuto mio padre, si sono sposati, sono nato io, e per me il centro del mondo continua a essere Piazza della Scala. Ma come, non Piazza del Duomo? No, Piazza della Duomo è troppo larga, Piazza della Scala. Piazza della Scala invece è più a misura. Piazza della Scala, diciamo, è più a misura, poi c'è la galleria. Per me quello è proprio il centro dell'universo, i piccoli cerchi che si allargano nel mondo e raggiungono addirittura i confini della galassia, perché io sono un appassionato di astrofisica. Di secondo nome fa Gustavo, è vero? Gustavo, sì. Ok, come mai c'è qualcosa legato a questo nome? Mio nonno Gustav, perché mia mamma era americana di origine irlandesi tedesche, per cui, per esempio, ecco, gli inglesi, diciamo, proprio gli inglesi inglesi, non gli scozzesi e non i gallesi, ma gli inglesi, un pochino mi... perché appunto sono sangue irlandese e tedesco i più grandi nemici dell'inglese. Non ce n'era, non si salvava. Esatto, quindi però li rispetto, alla fine gli voglio bene, perché ci hanno dato i Rolling Stones e i Beatles e quello solo basterebbe, poi ci hanno dato anche tante pessime cose. È un caso che ha detto prima Rolling Stones di Beatles? Assolutamente. È uno schieramento il suo? Io allora ero Rolling Stones. Ok. Poi ho scoperto i Beatles più tardi, adesso la mia opinione, diciamo lucida, di anziano musicista è che i Beatles sono stati veramente grandissimi musicisti, in particolare direi Paul McCartney. Mi perdoni il gioco di parole. Gustavo, se l'è gustata questa vita? No. Non ancora? No. Non sono mai stato veramente... Non credo di sapere cosa sia esattamente la felicità. Per me in momenti in cui sono stato più felice ho pianto. Per me la felicità è una malinconica consapevolezza, è la coscienza che tutto conta e tutto passa. è un po' come quel detto zen del monaco che sta cadendo di un precipizio e passa davanti a un fiore ed era un fiore meraviglioso. Però bisogna essere anche capace di riuscire in quel momento a cogliere quel fiore meraviglioso. Non è una roba da tutti. Sì, ma è che i fiori meravigliosi sono così forti, così intensi, ti arrivano delle... Guarda, mi sto commuovendo a pensarci proprio. No, che poi mi dicono che faccio già fare la televisione del dolore e quelle cose lì. No, ma il dolore invece è molto più facile da gestire che non la felicità. La felicità è problematica, è uno stato di euforia che gli altri spesso non capiscono, sembri matto. Io per esempio adesso sono molto felice perché stanotte ho fatto un'idiozia pazzesca di cui non so ancora l'esito ma che mi ha appassionato fino alle quattro e mezza del mattino. Praticamente ho cambiato computer e c'è una cosa che si chiama GarageBand però non ho una tastiera da collegarci ancora perché la mia vecchia tastiera usa l'USB di cui vecchio e c'è il nuovo USB. Allora ho dovuto, ho scritto un pezzo puramente teorico senza sentirlo. Non ha mai smesso di scrivere musica praticamente? Anche questa notte non si ferma mai. Come è possibile che qualcuno, si è mai fatto una domanda, come è possibile che qualcuno riesca in tutta la sua vita sempre a partorire dei suoni che non sono appunto dei suoni e basta ma che messi tra di loro diventano poi melodia? La musica è veramente un diretto contatto con l'assoluto cosmico quindi qualunque sia il tuo assoluto la musica ti ci porta. Non a caso non esistono liturgie al mondo che non prevedano un canto o una musica e quindi questo collegamento con l'assoluto ti porta, è molto più viscerale, ci colpisce in luoghi molto più reconditi, più profondi delle parole. Le parole cambiano, cambiano da persona in persona, da paese in paese. Parliamo delle diverse lingue, ma io e te parliamo due lingue diverse. Io ho i miei termini, tu hai i tuoi, abbiamo dei modi di dire, ci si può, insomma, si può riconoscere, no? E quindi le arti delle parole sono le più personali, le più, come dire, individuali che esistono, no? Assolutamente relative. Mentre la musica è assolutamente assoluta, mettendoli insieme e facendo canzoni, si rende assoluto il testo e si umanizza, si rende comprensibile ai non musicisti. La musica. Adesso che me la porto io di nuovo qua a Milano, ho fatto questo viaggio astrale, non è facile riportarla giù qua, nei nostri tombini della zona San Siro, non è facile. Prima quando l'ho chiesto il cantante che, alla fine abbiamo detto, il cantante che canta, questo abbiamo detto. E allora Eugenio Finardi invece il milanese che, milanese non si può dire, quindi... Sì, sì, il milanese, il milanese che ama Milano perché è una città dove si può essere, dove si può essere liberi in realtà. Cioè, io ho avuto l'avventura di girare, non tantissimo il mondo, devo dire, ma di girare tantissimo l'Italia. E Milano è una piccola città cosmopolita, è una piccola capitale del mondo. E questa è la situazione migliore. Non lo so, le ha Zurigo, per esempio, un'altra città che non è la capitale, ma insomma è uno di questi. La stessa cosa, la diceva nel 2023, chiedo alla regia se abbiamo una grafica A, che intanto per chi ci sta guardando, poi invece chi ci sta ascoltando ve la leggo io. Quando gli hanno chiesto che ragazzo era e cosa rappresentava Milano, lei ha risposto che era un giovane hippie che voleva diventare come gli Stones, praticamente un Damiano dei Maneskin, solo che lui ci è riuscito. Milano era provinciale e cosmopolita negli anni 70, un vulcano di idee, creatività e sogni di lotta. Già negli anni 70 Milano era provinciale ma cosmopolita. Era provinciale perché era ancora, l'Italia negli anni 50 era estremamente provinciale, cioè basta guardare i film di allora. era la Milano della, come si chiama, quella attrice stupenda, però il telefono della Valeri, Franca Valeri. Però a Milano abitavano Cati Barberia, Luigi Nono, c'era tantissima ricerca, c'era un periodo, negli anni 70 in particolare, 60-70 in cui Milano è stata veramente una delle capitali mondiali della ricerca intellettuale. E' un po' proprio quello che sta succedendo anche adesso allora, abbiamo un Gali che arriva dalla Tunisia, un Mahmood con le origini egiziane. Sì, ma infatti io quando Gali, io ho scritto Dolce Italia nell'86 forse, mi sembra, attorno a quel periodo lì, e quando Gali ha scritto, quando mi dicono torna a casa, io sono già qui. La tecnologia ormai è entrata a far parte però della nostra vita di tutti i giorni. Cosa ne pensa di questa tecnologia che ormai invade la nostra vita? Io confido molto nell'intelligenza artificiale in realtà, perché insieme al computer quantistico e alle nanotecnologie, penso che fra 200 anni forse saremo, avremo dentro di noi i computer, i collegamenti, noi saremo uno dell'extension di una grande consapevolezza diciamo planetaria o forse addirittura di più. Torniamo invece a Milano adesso, andiamo in città. Non comandata dagli uomini. Perché vogliono comandare? Non comandata dagli uomini. Comanderebbe l'intelligenza artificiale che non avrebbe nessun motivo per voler comandare. Questo devo dire che è molto interessante. Noi vogliamo comandare per fare sesso, per avere cibo. Potere, soldi. L'intelligenza artificiale, basta che sia garantita le fonti di energia, di cos'altro ha bisogno. Avrà bisogno di noi per divertirsi. Noi saremo i suoi sensori. Ci parlerà di queste qualche canzone magari, arriverà qualche canzone che racconterà. Leggo un disco che è tutto su questo. Ah, ecco. Infatti lo vedevo ben schillato, come dicono adesso, sul tema. Torniamo invece a Milano. Ci sono dei temi, ultimamente è andato sui giornali spesso, per il discorso, anzi ha pur criticato con Vasco Rossi. Cosa è successo? No, è spesso le costruzioni dei giornali. Eh, meno male. A me ha telefonato uno del comitato di quartiere e mi ha detto, ma a finale di lei lo sa chi... Vediamo intanto appunto la grafica C. Io abito vicino a San Siro e la Maura. Ok, quindi i due venue che vengono usati. Quindi, e ho le foto con me, anche ve lo posso far vedere, dell'anno scorso del concerto di Trevis Scott che ha fatto ondeggiare la mia casa notevolmente con crepe nei muri. Perché appunto al giorno le ha detto, da residente mi ribello, basta show, il quartiere è prigioniero del degrado. Ma siamo prigionieri, veramente. Cioè, e domenica c'erano i cosi per la domenica delle palmi, i ragazzini, poi le partite. E veramente, rendetevi conto di cosa vuol dire. Il mese di giugno una persona che deve andare a portare i figli al diurno, a portare fuori, qualunque cosa circondata da una città come Bergamo, Padova, Parma, scusa, Cosenza. Cioè, stiamo parlando di città caserta, l'equivalente di tutti gli abitanti di Pavia, di Caserta, che in un giorno, pumf, arrivano in un piccolo quartiere, non senza... E il bello è che ci si potrebbe organizzare, ci sarebbero tutti i parcheggi che erano stati fatti per l'Expo verso Milano, da Settimo Milanese a Milano, praticamente sulla destra ci sono solo parcheggi. Sono lì da Italia 90. Dove facevano le cose... Da Italia 90, appunto. Dove facevano le cose le vaccinazioni. Sì, sì. Cioè, il centro vaccinale. Tu compri il biglietto per il concerto e insieme compri il biglietto per il parcheggio. In tutto il mondo si fa così. Ma il problema, adesso faccio l'avvocato del diavolo, è che voi cantanti volete sempre più soldi, volete sempre diventare più ricchi. Com'è sta storia? In realtà non sono i cantanti, almeno non sono tutti i cantanti. No, in realtà è che si è formata questa... Dopo il Covid c'è stata questa reazione di... C'è proprio questo desiderio di folla, perché in realtà in un concerto di 100.000 persone non senti niente. Cioè non capisci niente, è inutile. Io anche sono andato a vedere i Rolling Stones a San Siro, non l'ultima volta, anni fa, e ho speso 128 euro per stare seduto a 200 metri da dove stavano suonando. Io li vedevo alti un millimetro, alla fine ho finito col guardare il concerto nell'iPad del Fanatico. Alicolo davanti, ma peggio ancora. Cioè capisci che spendere 128 euro per vedere un concerto... Perché però la gente si diverte a essere in 100.000, a essere in tanti... Poi vogliamo dirlo una volta per tutte che San Siro ha una acustica... Per me quella è la cosa... Possiamo dirlo che i concerti di San Siro si sentono male perché ha una acustica pessima? No, no, è terribile. Ah ok, sono l'unico a portare avanti questa cosa. Emozionante, devo dire, perché effettivamente è emozionante, però potrebbe durare un quarto d'ora che è uguale. Non cambia molto. E poi c'è il fatto che proprio nell'economia della musica un concerto... Non so se tu hai letto quell'articolo, è spesso un grande imbroglio quando tu senti uno che dal nulla fa San Siro alla fine è per... Poi tutti i biglietti invenduti o regalati per riempirlo eccetera eccetera vengono poi pagati nel corso degli anni detratti dai guadagni e quindi chi ci guadagna sono solo poche grandi città. Ma il problema non è la musica, il problema è proprio l'idea, è la violenza di invadere un quartiere in maniera assolutamente disorganizzata con la gente che fa la pipì in qualunque aria verde insomma che butta carte, che lascia a mangiare. Quindi questa Milano da che parte sta andando? È così solo qui, è così tutta? Sta andando dalla parte in cui sta andando il mondo, dalla parte del denaro a tutti i costi. E non ci salvezza? Io adesso per venire qui sono passato di fianco appunto allo spazio dell'ippodromo La Maura che se tu lo guardi da l'ippodromo è questa enorme distesa di verde così meravigliosa dove io vedo poesia, dove io vedo bellezza, cioè uno spazio vuoto, verde, di alberi, di erba, di natura, di uccelli migratori che in questa stagione stanno passando. gli altri vedono palazzi e quartieri da costruire, capito? E questo è il grande ricatto, cioè noi dobbiamo subire i concerti. Sempre sul Corriere della Sera lei appunto ha detto temo l'eccessiva urbanizzazione, la speculazione, temo gli uomini del fare che si fanno solo i fazzi loro. Così ha detto? I fazzi loro, io detesto gli uomini del fare. Pensa cretino, invece che sempre i dredi, allora, capito? Dicono che è nel DNA del milanese, non è così allora. Chi sono i milanesi? I milanesi veri sono 200 mila persone. Chi sono i milanesi? I veri milanesi? I veri milanesi sono 200 mila, io ne conosco uno, che ha tutti i bisnonni milanesi. Ma è solo milanese chi è nato e cresciuto qui o poi si può diventare milanese? No, si può diventare milanese in due generazioni, tre. Ah sì, serve? Sì, ci sono... No, sì. Ma basta pensare a tutti quelli che vogliono tornare al loro paese. Ah. Cioè, sono qui temporaneamente. Ma ci sono quelli che vengono qua e si innamorano di questa città. Di cosa si innamorano? E loro si innamorano del fatto che Milano è una città meravigliosa e che soprattutto si fa i fatti suoi. Ah. Cioè, a Milano, io non so cosa fanno i miei vicini, è splendido. Ah, bello. Perché tu dici che... E non voglio che i miei vicini sappiano cosa faccio io. Ma non è asettico, non è sociopatici. No, i contatti umani portano solo malattie, guarda. Io sto scherzando adesso. Ovviamente, ma... No, cioè, sì, è asettico, però... Però è anche veramente... Cioè, pensa del giudizio, le comunità... Non è vero che lei è così perché so che fa tantissime cose anche nel sociale, quindi si impegna anche per il prossimo, quindi... Io ho una figlia down, per cui ovviamente, ma il sociale non è il bar. Il sociale è darsi da fare. A proposito dei suoi figli, Emanuele, Elettra, Francesca, giusto? Elettra è la prima, che ha 42 anni ed è una persona down. Poi c'è Emanuele e Francesca. Poi c'è Emanuele, che è del 90, quindi ha 34 anni, e va per i 34, e poi Francesca, che va per i 25. Ok. Voglio sapere, cosa ha fatto la povera Francesca per non avere un nome che inizia con la E? Eh, sai che me ne sono accorto anch'io dopo, perché ci suonava bene Francesca Finale. No, perché soprattutto lei, con i nomi, ha un rapporto particolare. Due mogli con lo stesso nome. Furbizia? Così non si sbagliava? Cos'è che è stato... No, no, no. Non solo hanno lo stesso nome, ma hanno... Sono nate, cioè, una il 6 aprile, l'altra il 7 aprile. La prima, purtroppo, non è più tra noi. quasi tutte le donne della mia vita sono state della seconda decada dell'Ariete, cioè dal 1 al 10 aprile. Proprio... Però... Ma è una cosa strana, io quando incontro una persona, il mio migliore amico del 5 aprile. Bene. Quindi, quando io incontro una persona che... Una ragazza, una donna, in cui sento che ce n'è, non avete presente, no? Si ha il feeling che... Soprattutto una volta, adesso, è molto probabile che sia di quella decada. Ha nominato appunto sua figlia Elettra. Sua figlia Elettra appunto è una persona con la sindrome di Down. Questo cosa ha comportato nella sua vita? Soprattutto, come si impara ad essere genitori quando succede una cosa del genere? Nessuno vi dà un manuale, immagino. Si ha molto più tempo. Siccome si sviluppano molto più lentamente. Mia figlia ha camminato a tre anni, per dire. Ha parlato più tardi. Quindi, essendo stata la prima, io non avevo un'idea, un modello di come dovesse essere il ritmo di crescita. Per cui, ho cresciuto Elettra con la consapevolezza che ci fossero dei limiti comunque, ma anche con la consapevolezza che c'erano anche tantissime possibilità e Elettra non è affatto stupida. E funziona in maniera differente, ha diverse esigenze differenti, è estremamente onesta, per esempio. Ti dice in faccia, mi ricordo sempre una volta avevo un presidente di una casa discografica che era un perfetto deficiente e l'ha incontrato l'ha guardato e gli ha fatto tu sei un cretino cinque minuti dall'incontro mi ha rovinato la carriera ma comunque scherzo però è così Elettra è e quindi quando sono nati gli altri figli Emanuele Emanuele purtroppo l'ho goduto poco perché sua madre mi ha lasciato quando era aveva due due anni e mezzo tre quindi non ho avuto il tempo cioè lo vedevo sai i genitori separati una volta ogni weekend ogni quindici giorni insomma e poi invece Francesca che ho seguito e mi hanno stupito entrambi per Emanuele e Francesca per la rapidità con quei ogni ma già cammina già parla già già va a Ibiza è un attimo poi dal prima parola Ibiza un attimo dal primo ciucciotto dal primo pannolino a Ibiza infatti 18 anni sono niente questa cosa questa storia appunto di Eletta lei parla anche raccontata sono due canzoni se non sbaglio che raccontano un po' ce ne sono varie ma ce ne sono anche sugli altri anche sugli altri ma quello che mi mi interessava poi è stato poi anche il suo avvicinarsi al mondo del sociale Milano è una città dove si fa tanto nel sociale questa cosa cosa è la prova della grande cuore di Milano o della grande impreparazione delle istituzioni di entrambe diciamo una cosa subito che purtroppo l'Italia che è un grandissimo paese io l'ho scelta proprio avrei avuto la possibilità infatti lei poteva andare ad un'altra parte dell'oceano ma avrei potuto vivere ovunque da americano come in America tutti sognano in America io andato in America ho detto io vivere qua ma siamo scemi intorno a Milano Milano è una città ma l'Italia in generale è una nazione con la gente buona ma buona 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 proprio però anche con tanti furbi ecco a volte era meno presente di adesso però in generale è una città è una città assolutamente vivibile perché le cose le cose funzionano ma anche perché c'è appunto questa rete io me ne sono accorto anche in questa stessa zona il Dognocchi e soprattutto perché c'è un'unione tra le forze laiche e le forze cattoliche molti pensano che la beneficenza sia solo fatta in strutture legate alla fede molto spesso lo è in molti luoghi lo è a Milano queste due realtà si intersecano diciamo che c'è una una compartecipazione e c'è molta gente che vuole aiutare gli altri anche non so io lo sento nella mia anima di milanese se io vedo una persona in difficoltà io mi fermo sai quando si vedono quei filmini di uno sdraiato per la strada e tutti lo evitano io no io mi fermo a vedere cosa succede e in generale credo che sia ma credo che in generale sia così faccia più like su tiktok invece il video dove non si vede che si fermano perché poi c'è anche questo io non guardo i social ma infatti c'è bisogno che sembra più devo spiegare te lo spiego perché sono uscito dai social non è uno snobismo non è l'unico è anche il cantante dei santi francesi è uscito dai social ha seguito la questione San Giovanni che ha deciso secondo me lui è il vero vincitore di Sanremo ma com'è questa storia allora San Giovanni lascia la musica non ce la fa più altri cantanti hanno detto che ultimamente insomma lo showbiz fa male proprio psicologicamente ma è così già prima è assolutamente una malattia è sempre stato così? sì ma uno che vuol diventare famoso è scemo voglio dire è pazzo di natura e cosa c'è di vero tra voi e invece questa generazione che questa generazione è molto più consapevole del disagio mentale io per esempio a un certo punto io mi sono reso conto questo io prima diciamo istintivamente l'ho pagata molto caro ma negli anni 70-80 io facevo i palasport e prima di ogni data questo questo che era l'equivalente degli stadi di adesso c'era anche molto meno gente al mondo per cui e queste date io le pativo proprio spesso vomitavo proprio prima di salire sul palco e poi ho capito che quello che volevo fare io non era cantare in un palasporto cantare in uno stadio ma cantare cioè che la musica era il senso ma partiamo appunto da San Giovanni da San Giovanni questi ragazzi invece io mi sono reso conto di avere pagato un carissimo prezzo alla fama e tutti la vogliono ma ha un prezzo altissimo ha un prezzo veramente altissimo a livello poi di nervoso se poi sei un artista quindi se sei veramente un artista e non uno che si le boom non ha dentro la sacra fiamma quelli che non hanno dentro la sacra fiamma di solito finiscono in situazioni molto alte ma pochi di quelli che hanno la vera musica dentro vogliono arrivare a quel tipo di successo la sacra fiamma arde ancora dentro qualcuno di questi nuovi ragazzi ma probabilmente arde anche in San Giovanni solo che appunto lui ha capito che il prezzo che pagherebbe sarebbe la sua salute mentale e non è disposto a farlo come tanti giovani di adesso come anche Billy Eilish come il principe Harry che ha parlato adesso si può parlare di malessere io sono in terapia da psicanalista ci vado da 30 anni da 40 anni 30 anni tutti e lo considero fondamentale per sopravvivere a cioè ma tu renditi conto io c'è gente che arriva da me e addirittura l'altro giorno resse lunga una si è inchinata proprio quasi in ginocchio mi ha preso mi voleva baciare la mano lei mi ha cambiato la vita grazie ma come pensi che si senta un gino qualunque che sta andando al supermercato a settimo a fare la spesa capisci dietro un carrello pensare se prendere capito quel prodotto il prezzemolo l'origaro con la lattuga normale capisci ti arriva uno che ti vuol baciare è una cosa che fa impazzire è una cosa che adesso no 70 anni è 50 anni che è così cosa vuoi oramai sono abituato a questa cosa però io sempre dico tu stai parlando a Finardi o stai parlando a me oppure quando io dico che vado a lavorare vado a fare Finardi ok quando torno a casa da lavorare mia moglie mi dice è finito di fare Finardi bene porta giù il cane capito cioè proprio su questo avevo un editor personale che volevo raccontare per capire anche come reagisce l'artista in questo caso una delle sue canzoni una delle più belle sue canzoni secondo me è la radio ok quella canzone lì era una canzone amatissima da una mia carissima amica Carmen che ci ha lasciato troppo presto quindi io ogni volta che sento quella canzone non posso che pensare a Carmen commuovermi e stare anche un po' male diciamo sicuramente sicuramente non era questo l'intento dell'artista ok come fa a gestire questa cosa che le canzoni lei le fa poi a un certo punto chiunque di noi ne fa il suo uso ma sono come i figli sono come i le canzoni sono come come li fai le metti al mondo e poi e poi c'è anche un momento del parto in cui c'è una volta che esce un disco l'hai sentito talmente tanto che te lo vuoi levare prendetevelo voi quando si chiede a qualcuno ha appena fatto un figlio ne farebbe un altro dice subito di no poi magari due anni dopo ne fa un altro si due anni ne fa un altro appunto ti deve tornare a voglia ma a una mamma che ha appena partorito difficilmente dici fai un altro figlio no mai più pensi che mia moglie a questo vizio ti chiedono a tutte quelle che partoriscono tutte appena c'è un amico che partorisce ti chiede subito questa cosa e se lo segna poi ne parliamo fra due anni no vabbè è il normale ciclo delle cose però noi facciamo il nostro utilizzo delle sue canzoni cioè le canzoni sono sue o sono mie di chi sono le canzoni le canzoni sono di chi sono bisogna vedere chi le ha allora il tuo frigorifero allora sul tuo frigorifero c'è scritto non lo so Ariston non c'è più meglio non facciamo pubblicità Ariston chi è il possessore del frigorifero l'Ariston che l'ha fatto o tu che l'hai comprato e io che volevo incolpare l'Ariston perché mangio tanto io che volevo incolpare l'Ariston perché mangio troppo e ha portato troppo spesso il frigorifero anche io ho il frigo profondo così infatti si vede e la realtà è questa che non la realtà in realtà non esiste cioè noi percepiamo una piccola fetta di tutto ciò che è reale i cani ne percepiscono un'altra le balene un'altra ancora siamo arrivati in conclusione perché sennò di là mi tagliano perché veramente abbiamo fatto una checcata lunghissima ma piena di informazioni che veramente mi voglio portare a casa l'ultima cosa che poi le chiedo è che cosa non si dice abbastanza di Eugenio Finardi ecco la cosa che mi dispiace di più è che in realtà io sono stato la Merigo Vespucci cioè la nave scuola di tantissimi la prima volta che Pino Daniele ha suonato a Milano ha aperto un mio concerto stessa cosa per Ligabue il suo primo concerto a Milano la notizia è stata che lei ha suonato a Campovolo di Ligabue ma nessuno si è reso conto che in realtà Ligabue aveva suonato all'apertura del suo concerto è uguale Pino Gianna Nanini ha aprito tutta una tournée ma poi i musicisti che ho scoperto da Walter Calloni a Hugh Bullen che aveva scoperto Walter Calloni cioè cose io ho forse il mio più grande talento è quello di scoprire nei musicisti quello che loro stessi non sanno di avere dentro e farglielo tirare fuori io mi considero un allenatore di musicisti è la cosa di cui sono più fiero e pochi però dicono ho iniziato poi citano non so ne faccio un esempio Calloni che magari vedrà questa cosa Walter Calloni il batterista di musica ribelle con Hugh Bullen era giovanissimo non aveva avuto esperienze precedenti dopo quel disco è stato chiamato da Battisti per la batteria il contrabbasso eccetera da Graziani da tutti è diventato uno dei migliori session man d'Italia però quando lo intervistano comincia da Battisti e cazzo questo mi fa un po' scusate il termine tecnico ma mi fa un po' girare non andiamo in ordine alfabetico ma andiamo in ordine cronologico quindi siamo con la F di Finale in realtà se uno va a vedere la storia della musica italiana fino al 2000 molto spesso all'origine al fondo all'inizio ci sono io Battiato per esempio era nel mio primo LP nel 75 lo conosco dal 72 lo conoscevo dal 72 quando faceva tutt'altra musica nei festival di Renudo con i sintetizzatori quindi io ci sono sempre stato lungo tutta questa cosa Demetrio Fabrizio di Andrè Pino Battiato Alice tutto come dice lei mi piace molto questa cosa lei è un coach di musicisti un coach di talenti di sezioni ritmiche Finardi io davvero la ringrazio tantissimo ha anche nominato Renudo non potremmo chiudere meglio ricordando anche quel festival che è stato qualcosa se potrebbe mai succedere un altro festival così un altro Renudo sono i rave di oggi il problema è sempre lì è questo desiderio di folla cioè se tu guardi una foto dell'isola di White di Woodstock di Renudo ognuno aveva più o meno tre metri quadri quattro a disposizione cioè ognuno era aveva più o meno il posto poteva sdraiarsi poteva chiamare un amico adesso se tu vai a queste cose dove ci sono centomila persone sono tutti uno attaccatissimo a quell'altro capito quindi chiarissimo e tutti con un braccio su che mi viene male mi viene male solo l'idea infatti i dj devono fare tantissima palestra perché sempre con tutti e due le braccia non solo una suonano con tutti e due le braccia così ecco quella è una cosa che mi fa girare i maroni cioè che i dj che mettono dentro una chiavetta e girano un pistolotto del timbro dicono che suonano mi disgusta ogni volta che è un pezzo di Finardi muore diciamo così un pezzo di Finardi no ma un pezzo di futuro muore cioè un'idea di si sta molto appiattendo l'idea di bellezza un po' come i sapori noi che siamo nati in un'altra epoca ci ricordiamo appunto quando c'erano tante panetterie e ogni andavi da quella che faceva il pane buono no le michette per esempio le vedi più le michette non ci sono più e adesso tutto il pane ha lo stesso sapore tutta la carne insomma è molto difficile Finardi io davvero la ringrazio tantissimo grazie sia per quello che ha fatto nella musica sia per essere venuto qui a raccontarci un po' appunto la sua Milano la sua musica e il futuro perché poi sempre bello quello capire che tutto questo lo si fa anche perché si crede comunque in un futuro certo e Milano cresce facciamo più verde meno soldi e più piante per favore gli americani su questo hanno fatto i dollari verdi così si dice il verde è quello infatti grazie mille ancora loro ad Eugenio Finardi i miei carissimi milanesi grazie anche a voi ci risentiamo e rivediamo alla prossima